Corruzione e criminalità organizzate in casa nostra è il titolo della giornata organizzata dalla CGL del Valdarno Aretino con il patrocinio della regione toscana. Sul fenomeno è stato recentemente illustrato un report stilato dalla scuola normale di Pisa che ha fatto emergere dati assolutamente non rassicuranti riguardanti il nostro territorio. La provincia di Arezzo, il Valdarno che ne fa parte, non è terra consolidata di mafia, nessuno dice questo, però è terra dove la criminalità organizzata si muove, fa affari e delinque. Provene l'interdizione nuova della prefettura, un'altra ancora per un'azienda della Valdichiana che erogava servizi. Spesso si insidiano, per così dire, nelle maglie degli appalti, si insidiano nei momenti di crisi dove le aziende hanno serie difficoltà nel reperire il capitale. L'obiettivo è sensibilizzare cittadinanza e istituzioni sul tema e coinvolgerle nella ricerca di soluzioni e proposte condivise mirate a proteggere il territorio da chi vuole delinquere, consci che la mafia è molto cambiata nel recente passato. Lo sappiamo che la mafia non è più quella della Coppola e della Lupara, ma la mafia è quella dei conti in banca, dei movimenti bancari, delle aziende che vengono acquisite per il riciclaggio. Ci sono tante forme, insomma, di criminalità e di illegalità. La giornata, che si conclude con un incontro rivolto alla cittadinanza presso la Pieve di San Giovanni Battista, è iniziata in mattinata con un faccia a faccia con gli studenti dell'Isis Valdarno. Il ruolo della scuola è quello di rispondere presente ad un'iniziativa di tale spessore, un argomento che tocca da vicino le aziende del nostro territorio, che sono i nostri primi interlocutori. Pensiamo in quanto polo tecnico-professionale, abbiamo degli stretti rapporti con tutto quello che è il mondo del lavoro, grazie anche agli stage in alternanza scuola-lavoro e allo stesso tempo quello di educare i nostri ragazzi a dei valori profondi, di renderli partecipi.